L'ultimo tassello è stato posato nel mosaico della ristrutturazione complessiva della stazione marittima. Il nuovo Terminal 109-110 per le navi da crociera in arrivo allo scalo lagunare apre i battenti dopo il restauro realizzato da Venezia Terminal Passeggeri. Se voi considerate che abbiamo ristrutturato 14.000 m2 con le opere murarie, gli impianti e gli arredi con un costo di 12 milioni di euro, direi che possiamo dire con questo risultato estetico che lascio a voi considerare, direi che siamo riusciti a realizzare un'opera valida in termini veloci e sicuramente economici. La marittima dispone ora di 260.000 m2 di superficie operativa, uno specchio acquo di 123.700 m2, 8 Terminal Passeggeri, 5 parcheggi e oltre 3,2 km di banchina. La riconversione industriale ha avuto le sue fasi cruciali nell'ultimo decennio ad opera di VTP e dell'autorità portuale di Venezia. Il porto, conferma il sindaco Giorgio Orsoni, è una struttura essenziale per il futuro della città e del territorio, ma è anche una struttura dinamica che deve guardare un insieme di aree per accrescersi, non limitandosi a un luogo o ad un altro. Il riferimento è naturalmente al porto commerciale di Marghera, dove il sindaco vorrebbe trasferire le grandi navi da crociera, il che, suggerisce il primo cittadino, non renderebbe comunque inutile la marittima. Questa è una soluzione straordinaria per qualsiasi attività si voglia fare qui dentro, navi di tutti i tonnellaggi, purché possano arrivare in maniera compatibile con le esigenze della città.